Mister Emiliano Buonazzoli, benvenuto a Chievo Corona Valpo, prima esperienza nel calcio femminile, ti chiedo innanzitutto cosa ti ha spinto ad accettare questa sfida e cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Sicuramente, vi ringrazio per il benvenuto, mi ha spinto, mi parla molto bene di questo calcio, sicuramente non lo conosco anche perché sono due anni che comunque ho iniziato a allenare, però mi hanno parlato benissimo i miei ex compagni di squadra, allenatori, soprattutto Atilio Sorbi che è collaboratore a Bartolini Nazionale Femminile Maggiore, quindi quando è arrivata questa offerta non ci ho pensato due volte, mi è piaciuto parlare con il Presidente, con quello staff e ho accettato i punti entieri. Prenderai per mano una squadra animata da un grande desiderio di rivalsa, cosa dirai le ragazze prima di questo primo allenamento? Sicuramente la cosa principale che conta è trovare la fiducia nei propri mezzi, che passerà sicuramente sul lavoro sul campo, crederci, non è buttato via tutto ma si può risalire, si può fare risultati importanti, ripeto col lavoro sul campo si rivelano al risultato importanti.